randicolo, rinquadrami a te, ma ti voglio andare a partire che si intrecino facciamo il primo piano ti devi peggio? non mi temi non mi temi non mi temi eh, sei un po' affoggiato qui non mi vengono cazzo non mi sembra che si intenzia si capisci niente grossi non sai il peso attimale è questa cosa eh, non vuoi che vuoi ecco andò ma qui stai inquadrando la cattiera come vuoi? ma che vuoi? io vi ho scordato che venne pure il voce qui ti tocca il vestiglio ma sarei giusto all'agrata? eh ma si ma si che sei ma che vuoi? 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 non mi sembrava ma che vuoi? un po' in difficoltà ma no che scegno che scegno grazie di scegno che scegno per la parola non sono pochi in presa mi ha mangi però scusa vedi pure anche da tagliato mi sono fatto un'improfessione mi chiamava il senso e sono diventati due non è una partita da diciamola a questa tv diciamola che sono un candidato per essere contro una prima nazionale diciamola eeeh ma io ho paura di scegno eeeh ma ce l'ha ma non è scegno manca la voce questa si si c'è la voce? voce ha un luco e che fai? metti mezzo a posto non è scegno io ho paura di scegno questo qui non c'è questo sta in quattro un pedoncio qua un pedoncio qua un pedoncio qua a cristo fuori pombo ecco qua c'è la voce c'è la voce ma questo va con la voce questo va con la voce no no ma è abolita questa voce di ragion mamma mia ma quello che ti succede ah è minta? quando guarda giocati voglio un attimo una cosa chi è il non è? ma non è come altro ma non è come altro non è come altro perché Alberto fosse bello ma chi è il non è? io ho il peruccio ma non mi inquadrare così la bocca che è l'otto ma io non male allora fai il bello spئ allora fai il prezzo ma non lo faccio le ragioni a però è il punto 주ag indietro l'ultima ora cambia non amore non amore ma non è bassa non è latina ma x ss st Ma...